buongiorno a tutti benvenuti e grazie per essere qui io sono Letizia Ciaccafava sono un experience designer ed oggi ho il grande piacere di presentare qui con me in questo panel anche il dottor Trovato country manager Airbnb cominciamo subito mh le aziende oggi più che mai si concentrano sulla ricerca di modi semplici per definire i propri consumatori e prevedere i loro comportamenti un'interessante ricerca di Accenture pubblicata qualche giorno fa ci dice che il sessantaquattro per cento degli intervistati parliamo di una ricerca a livello globale ci dice che le aziende dovrebbero rispondere più velocemente ai loro mutevoli cambiamenti e ai loro mutevoli esigenze dall'altra parte l'ottantotto per cento dei leader aziendali ritiene che i loro clienti cambino più velocemente di quanto le loro aziende riescano a fare gli eventi degli ultimi anni la democratizzazione della tecnologia e l'accesso alle informazioni il web tre ci introducono sicuramente a un futuro più eh dinamico e creativo e molto diverso le tecnologie che semplificano le nostre vite dall'altra parte le complicano e ci trovano a prendere delle decisioni attuare dei comportamenti differenti dal passato un tempo le aziende adottavano un approccio orientato al prodotto questo approccio ha cambiato quando al processo creativo si è giunta l'analisi dei fabbisogni degli utenti e dei consumatori e si è arrivato e si è e questo concetto si è evoluto in un concetto più centrato all'experience oggi le aziende tendono eh a segmentare il più possibile il proprio target quindi buyer personas identikit profili user personas e tutti noi però cambiamo molto più velocemente tutti i giorni prendiamo solo decisioni e ci muoviamo in maniera differente la stessa ricerca ci dice che il settantadue per cento dei consumatori afferma che i fattori esterni come inflazione movimenti sociali cambiamenti climatici influenzano nelle loro vite più che in passato e il sessanta per cento di loro afferma che le loro priorità cambiano costantemente con maggior pressione da parte di tutti questi fattori e con il cambiamento del esterno la nostra lista dei bisogni cambia e anche la nostra scala di valori cambia se noi se le aziende si concentrano solo su segmentazioni statiche funneling customer giorni rigide oggi potrebbero trovarsi a non riuscire più a rispondere a questi profondi cambiamenti e a non riuscire più a entrare in contatto reale con le persone alle quali devono rispondere con dei prodotti e dei servizi che soddisfino i loro bisogni questa ricerca ci parla di segnali di disconnessione cioè ciò che risulta essere importante per i consumatori non risponde spesso alle priorità di sviluppo e quindi di investimento delle aziende questa slide è un'amara consolazione per noi del travel come vedete le disconnessioni sono molte ma se facciamo un focus sul nostro settore ci accorgiamo subito di una grandissima disconnessione i consumatori indicano come priorità nel loro comportamento di scelta la fiducia la capacità delle aziende di rispondere in maniera veloce con servizi precisi e con un'assistenza importante e sempre presente ai bisogni delle persone vedete dall'altra parte le companies invece decidono di investire in particolare su quella che è brand reputation brand awareness posizionamento del proprio brand l'obiettivo oggi più che mai da parte delle aziende è quello di coniugare bisogni ed aspettative dei propri clienti in un contesto estremamente complesso ed estremamente veloce in cui i cambiamenti sono praticamente costanti per fare ciò è necessario attuare meccanismi di ascolto ed empatia con il cliente costantemente le aziende devono essere in grado di leggere i dati di risposta di questi meccanismi di interazione con i propri clienti quasi più da un punto di vista psicologico sociologico comportamentale questa ricerca fa un interessante change un passo in avanti parla che dice di passare dalla centralità del cliente a me è piaciuto molto questo concetto alla centralità della vita quindi da un'attività più guidata dai dati piuttosto che più life driven come possono le aziende rispondere a queste esigenze io provo a dare tre piccole tips tre veloci io dico essere ossessionati prendete per favore con le pinze questa parola ossessionati dai propri clienti dai propri utenti i consumatori fanno sempre leva maggiore della propria consapevolezza e della fiducia maggiore che hanno in se stessi e attuano a volte anche dei comportamenti contraddittori nella scelta nelle scelte di acquisto o nelle scelte di ehm di soggiorno piuttosto che ehm di ricerca informazioni bisogna attuare una visione più olistica un approccio più dinamico chiedersi costantemente chi sono i nostri clienti chi sono i nostri utenti cosa motiva i loro comportamenti evolversi velocemente crescere e acquisire competenze e strumenti che rispondono al cambiamento tempo e ascolto sono due attività costanti che le aziende devono sempre costantemente mettere in atto offrire opzioni nuove per soddisfare quei consumatori che stanno rivalutando ciò che vogliono l'ultima rendere le cose semplici semplice però non significa facile emergere dal rumore di sottofondo facilita le decisioni e la vita di ognuno di noi interpretare i dati ricorrere alle tecnologie all'intelligenza artificiale alla professionalità sempre più evolute è molto importante per tracciare nuove connessioni con tra i bisogni dei clienti e le forze esterne e tentando quanto più possibile la propria organizzazione nel travel oggi più che mai è necessario ridisegnare completamente la relazione tra gli attori del comparto e viaggiatori turisti non esiste più distinzione tra chi costruisce un viaggio chi ne fruisce a me piace parlare di un circolo virtuoso di esperienze di vita che vengono realizzate tra le persone e per le persone e che rendono ogni viaggio un'occasione per essere felici in un momento storico in cui questo non è affatto scontato ma non voglio rubare ulteriore tempo al mio ospite che ringrazio per essere qui tra di noi che ci racconterà una bellissima case history secondo me molto interessante di come Airbnb è riuscita a rispondere a queste nuove esigenze di cambiamento con dei progetti e delle novità molto interessanti quindi non rubo ulteriore tempo e passo alla parola Giacomo trovato grazie Letizia forse mi serve questo per le slide allora tu poni delle domande complicate nel senso com'è che si riesce a comprendere i consumatori non è non è molto facile spesso si vuole rendere molto rigido il processo di capire che cosa vogliono per capire noi cosa possiamo fare per esempio Steve Jobs di Apple non credo che si sia affidato a dei focus group per creare l'iPhone eppure quel prodotto ha un po' rivoluzionato il modo in cui noi utilizziamo il nostro telefono ci vuole molta anche intuizione molta capacità di osservare i consumatori e di intuire cosa gli può piacere e per noi in Airbnb la pandemia è stato anche un momento di osservazione di cosa cambiava perché la pandemia ha un po' ridisegnato il modo in cui le persone utilizzano o scelgono dove andare non si poteva più prendere un aereo si dovevano trovare delle destinazioni più vicine e quindi tutto il tema dell'ispirazione è un tema che è diventato ancora più importante tutte le destinazioni tradizionali sono un po' saltate vediamo come possiamo ispirare le persone a scegliere il loro viaggio quindi la domanda che da cui volevo partire per voi ma voi come scegliete il viaggio se voi guardate un po' le modalità tradizionali tendenzialmente queste sono le barre di ricerca prese dai principali portali di ricerca di un alloggio voi vedete che dovete indicare tre informazioni dove volete andare quando e quante persone siete scegliendo questi dati cliccate ricerca e trovate tutta una lista di soluzioni questo però alla base a una modalità di comportamento del consumatore in cui si presume che le persone sappiano già dove vogliono andare ma è così è sempre così spesso sì ma non è detto che sia sempre così e allora io dico immaginate che io sia un grande romanticone e voglia vivere un'esperienza con la mia partner immaginando una località con una vista mozzafiato e quindi già mi prefiguro no magari un pranzo una cena con questa vista una situazione molto di atmosfera allora cosa cos'è che dovrei fare oggi beh mi dovrei mettere probabilmente a ricercare tutta una serie di alloggi che hanno quella caratteristica quindi dopo sei ore e mezza di ricerca ho trovato alcune soluzioni interessanti quindi me ne potrei andare in Grecia oppure ho trovato questa bellissima vista ad Alicante in Spagna oppure potrei stare in Italia per non dover prendere un aereo e quindi vado a Positano o ancora magari non voglio viaggiare tanto voglio stare un po' più vicino potrei andare sul lago di Iseo arriva di Solto ed ecco un'altra soluzione ecco per fare tutto questo percorso mi devo mettere su una ricerca manuale molto complicata alla base c'è un mio bisogno di offrire alla mia fidanzata un'esperienza di questo tipo immaginate un immaginate una una cena qui no questa è questa è l'emozione che io da cui io sono partito ecco ma allora perché non facilitare questo percorso di scelta e questo è un po' il principio alla base della dell'intuizione di introdurre lì vedete in alto delle categorie sul sito di Airbnb quindi le categorie vedetele come percorsi tematici da cui si può partire per cercare determinate esperienze quindi in questo caso voi vedete degli alloggi con vista mozzafiato e vedete alcune delle case che vi ho fatto vedere prima questo facilita il percorso di ricerca e parte dal presupposto che magari le persone non sono così decise ad andare proprio lì stanno cercando una un'emozione un'esperienza ma sono flessibili su dove farla e vogliono essere ispirate ecco questo questo è l'idea un po' che c'è la base delle categorie oppure un altro percorso immaginate su Airbnb eh questi sono dati della prepandemia quasi l'ottanta del per cento delle persone che che vengono in Italia sono stranieri allora uno uno straniero che viene in Italia ci viene per tanti motivi immaginiamo che una delle motivazioni per cui uno straniero viene in Italia sia di respirare la storia di questo nostro paese pensate agli americani hanno una storia molto recente una delle motivazioni principali per cui vengono in Europa è respirare la storia di un continente che ha una storia millenaria allora perché non tradurla in una possibilità di ricerca di alloggi ed ecco che questa è un'altra delle oltre cinquanta categorie che abbiamo introdotto le dimore storiche cioè dimore che hanno almeno cento anni questo è un altro tema è un tema molto interessante quello che tipicamente poi nasce per chi viene a stare in queste dimore è delle recensioni eh come quella di Richard questa è una recensione tradotta in italiano un posto davvero speciale soggiorna in cima una collina alla fine di un vialetto di due virgola cinque chilometri in un incantevole appartamento antico annesso a una storica cappella che si trova a nove metri attraverso una piazza di ghiaia dal magnifico castello medievale di Rocca d'Aiello è probabile che tu sia invitato a fare un tour privato del castello da parte di uno dei suoi proprietari ecco eh la categoria dimore storiche si trovano un sacco di recensioni di questo tipo di persone che dicono come è stato bello soggiornare in un luogo dove dove si respirava la storia eh e per cavalcare un po' questo tema per esempio qui in Italia abbiamo lanciato questa eh questo accordo con l'associazione dimore storiche italiane che è proprio un un ente che si occupa proprio eh di di raccogliere i proprietari di dimore storiche di promuovere questo tipo di ospitalità ehm voi considerate peraltro che questo è uno dei veicoli principali di dispersione del turismo perché le dimore storiche in oltre il novanta per cento dei casi si trovano in località rurali quindi talvolta si si parla di provare a portare le persone fuori dai centri delle città d'arte ecco questa è un'iniziativa per esempio che aiuta a eh portare le persone fuori dalle città d'arte ehm da dalle città tanto affollate e considerate che ehm questa categoria nel duemila e ventidue è cresciuta del cento per cento su Airbnb e i proprietari e gli annunci di dimore storiche sono aumentati del cinquanta per cento qui talvolta partire da un tema è capace di ispirare le persone eh abbiamo fatto delle statistiche abbiamo visto che queste modalità di ricerca flessibile e quando dico flessibile dico che le persone ricercano senza necessariamente aver già deciso dove vogliono andare o anche quando andare ehm sono state utilizzate miliardi di volte sul sito di Airbnb e chi le utilizza ha una probabilità del trentacinque per cento superiore di andare al di fuori delle quattrocento destinazioni più popolari quindi questa è una dimostrazione che dare possibilità di fare altri percorsi di ricerca di una casa o di una ricerca di una vacanza porta le persone spesso in luoghi che non avevano pianificato li fa scoprire eh delle esperienze eh che loro scoprono un pochettino navigando sul sito quindi questo è un tema piuttosto interessante sul customer journey come un po' come dicevi tu e quindi siccome qui al BTO si parla si parla molto del destination marketing cioè come attrarre le persone in una certa destinazione una un'affermazione una un un po' una una convinzione che abbiamo sviluppato e che avere degli alloggi unici è uno delle leve per il destination marketing avere una località dove per esempio ci sono tanti castelli può diventare un fattore di attrazione in quel luogo e quindi è un'altra delle leve su cui le varie destinazioni possono competere e un po' ispirati da questo tipo di principio cioè creare degli alloggi unici su Airbnb c'è dato un po' il là nel creare un'ulteriore categorie che è quella che abbiamo ribattezzato la categoria wow col punto esclamativo in inglese la traduzione è o mg punto esclamativo oh my god quindi tutte le quelle categorie di alloggi che generano quel tipo di esclamazione per chi ci sta e quindi ecco che abbiamo creato una categoria wow qui vedete alcuni degli annunci di questa categoria vedete in particolare in alto a destra il quello che è stato il bus delle spice girl per chi ha l'età perché si ricorda questo fenomeno della musica pop di qualche anno fa ehm qui esperienze di qualunque natura ci sono anche case a forma di patata ci sono c'è c'è di tutto ehm nel primo mese dopo il lancio è stata utilizzata questa categoria è stata utilizzata agli utenti oltre 2,5 miliardi di volte e nel 2021 le notti prenotate negli alloggi della categoria wow sono cresciute del 49 per cento rispetto al 2019 quindi questa è un po' l'intuizione che siamo un po' nell'epoca di Instagram spesso le persone vogliono anche fare delle esperienze davvero uniche cioè eh rifuggono spesso le persone la standardizzazione andare magari in una camera che è uguale che tu ti trovi eh a Roma a San Paolo a eh o a Buenos Aires quello che che si cerca spesso è avere questo senso di unicità del dell'esperienza ehm e quindi per diciamo promuovere ulteriormente questo concetto abbiamo lanciato questo fondo wow eh in cui abbiamo offerto centomila dollari a dei progetti di chi voleva realizzare delle case con questo contenuto assolutamente unico quindi abbiamo lanciato questo concorso a in estate del duemila di di quest'anno eh in cui abbiamo detto presentateci eh i vostri progetti di per per avere degli alloggi di questa categoria e daremo a ciascuno un finanziamento fino a centomila euro quindi eh abbiamo lanciato questa competizione abbiamo selezionato i vincitori tra questi c'è anche questo alloggio che chiaramente è un rendering eh il pino di un di un architetto ehm friulano ehm e quindi ecco questo è un come dire è un modo per intercettare dei bisogni del cliente che magari lo stesso cliente magari non sapeva neanche di avere è un po' lasciarsi ispirare da idee da percorsi la navigazione che che possono eh come dire portare una scelta magari che non non avrebbero immaginato e questo è un po' il racconto un po' della nostra esperienza su Airbnb. Bene ti ringrazio molto interessante grazie Giacomo. Gli ultimi minuti solo per far capire eh che abbiamo voluto questo utilizzare questo questo argomento per introdurre il concetto che innovare soprattutto in un ambito come quello del turismo che ce lo chiede costantemente è una chiave importante di lettura dei cambiamenti eh loro non sono solo riusciti ad innovare hanno anche in qualche modo validato la loro innovazione direttamente sul mercato quindi la prima parte della loro esperienza ha portato loro dietro un dato che letto dalla parte degli utenti eh gli ha permesso di sviluppare addirittura un progetto che sostiene ehm la costruzione e eh la la promozione di questo tipo di alloggio. Dobbiamo sempre più abituarci oggi che i consumatori mh pongano in essere anche delle scelte contraddittorie. Sono disposti a cambiare molto più velocemente un brand sul quale magari erano fidelizzati in risposta a un bisogno più veloce e questa è una chiave molto importante di lettura dei cambiamenti futuri. Eh parlare di experience nel turismo eh per me che ci lavoro e per Giacomo vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Se non lo contestualizziamo a dei dati a delle persone eh gli ultimi studi un altro interessantissimo dato non ci parleranno più di buyer personas identikit del viaggiatore ma ci aiuteranno a costruire una relazione con delle community con delle comunità interagendo con queste comunità i brand potranno sempre più rispondere ai bisogni emergenti della propria utenza e dei propri consumatori andando anche a conquistare coloro che in quel momento sono disposti a fare un change a cambiare per innovare le loro scelte. Ehm io sì poi no volevo dirti ehm talvolta adesso abbiamo 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 siamo partiti magari da categorie un po' più ispirazionali però talvolta il bisogno è veramente un bisogno ehm elementare adesso per esempio abbiamo appena lanciato la categoria di alloggi accessibili cioè provate a immaginare il percorso di ricerca di eh una persona che è in sedia a rotelle è chiaro che i suoi bisogni sono totalmente diversi eh però creare una categoria spesso non è soltanto un modo per generare domanda ma per dare la possibilità anche di sensibilizzare le persone che hanno delle case a eh nel caso in cui siano già accessibili a evidenziarlo perché quali sono spesso i bisogni di accessibilità avere magari un gradino d'ingresso che può essere superato con una sedia a rotella poter entrare in bagno in camera da letto senza barriere ehm e quindi nel sito diamo la possibilità di indicare queste caratteristiche di accessibilità quindi la crea la creazione di una categoria per chi ce l'ha già quelle caratteristiche le può evidenziare può permettergli di evidenziare per chi non ce li ha può sensibilizzarlo al tema e magari fanno qualche investimento nella casa perché vogliono rendere la loro casa accessibile quindi eh quando parliamo di più di cinquanta categorie veramente parliamo di percorsi un po' di ispirazione del del consumatore però talvolta parliamo anche proprio di esigenze di base eh su cui magari come operatori del turismo abbiamo una responsabilità bene il nostro tempo sta per terminare se non so se ci sono delle domande o delle cose che vogliamo chiedere io approfitto per ringraziare di nuovo so che è impegnato in tanti spostamenti ma ci tenevo molto ad averlo qui e eh ti ringrazio per la tua partecipazione a questo evento grazie a te Letizia se non ci sono domande noi vi ringraziamo e vi invitiamo a seguire i prossimi panel buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti